Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator xuderone E adesso video! WTF! Non ci credo! Succo a culo! Voglio vedere se funziona da qui Ti puoi girare Però ha funzionato Non ha funzionato E' un lama C'è stato un... C'è stato... Proviamo Eviterei di provare Ma? Abbiamo svoltato? Voglio andare Abbiamo svoltato il cheat No vabbè però Aspetta un attimo In che senso C'è Senza neanche un minimo di... Mi sembra un po' esagerato però adesso In che senso C'è dai Mi sembrava troppo bello per essere vero Di questa settimana No vabbè mi stanno fottendo veramente l'astronave Ma no dai A meno che non sia snap non può esserli per fottermi l'astronave Vabbè Gigi wow Che vita divertente che hai Cioè vediamo il nome del fallito Il nome di questo fallito lo voglio vedere Vediamo 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 Un fallito Vediamo come si chiamava Dio Allora ti ringrazio Grazie di cuore Sapere che ti svegli la mattina E rosichi E ti consumi il fegato Per me è veramente Una dose di adrenalina Ciao No dai non lo fare Rimettimi ti prego Ok questa è colpa mia Oh no aspetta Però non mi facevo uscire dallo squalo raga Nooo 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 Pensavo fosse pesce d'aprile e pesce di lampo Pensavo fosse pesce d'aprile e pesce di lampo C'ho provato C'ho provato C'ho provato C'ho provato C'ho provato Dobbiamo sbrigarci Non c'è tempo C'ho provato E' quello che fa Per farlo scattino L'ho finito No brutale si è buggato tutto Ma ha sparato a pantano Come lo fate finire Ma Maaaaaaaaaaaaaaa Oh ha preso danno Dio 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 Poi vai continua, continua su questo, continua su questo Eh non sono io, non sono io Allora ci sono io Oh, ho tanto quattro Non l'ha sparata, perca di azz Oh ma sto parlando Ci scassarà la minghia Non ci scassarà, minghia, minghia Sto parlando come Picciotti Che c***o voi, figabottan Kamataru Wow Wow Mi hai fatto un edit Wow That's the way, ha 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 I like it, ha 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 Andiamo Cioè meglio proprio nel chill mi faccio i medikit Guarda, toglieva otto, non toglievo più cinque Oh che c***o Ti hai in botte hai messo LoL LoL Ora io non Chi è questo genio che È arrivato con questa prepotenza Grazie mille bro A chiunque tu sia LoL Figa è entrato e lo ha falciato di prepotenza proprio Ho capito Da dove è che parte il percorso Spara stocato, spara stocato A terra Non ci credo Dio caro, non ci credo Dio caro non ci credo Non è possibile Con quattro colpi l'ho preso quattro volte Con quattro colpi l'ho preso quattro volte Stima sono Probabilmente due blocchi da cinque Minchia bello però ragazzi La mazza nera Aspetta La mazza da golf del golfista Aspetta piano Adesso non Cioè nel senso Da golf Stiamo vedendo i golfisti Vieni Vai spingi 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 Boom 1 Boom 2 Ciao biondo Ciao biondo You like You like Vaffangulo Non ho visto la Valkyrie Ciao biondo Yo 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 Oh pizza retra Perché ti sta pushando Fai lo shield Riplessa il muro Fai lo shield E fai un altro box Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non sono in grado Non ce la faccio Come quella volta Come quella volta che ero all'oratorio Avevo avuto 14-15 anni E avevamo sto tizio qua Che lo chiamavamo Chierico Lo chiamavamo Perché lui era un Stava prendendo i voti In poche parole Quindi era giovanissimo Avrebbe avuto 20 anni E stava prendendo i voti Allora era un'estate E avevano seduti sulla panchina Figa Si avvicina da noi il Chierico Completamente sudato Ma proprio era pezzatissimo Lo guardiamo e facciamo Chierico Ma come mai sei così pezzato? Lui si mette le mani sui fianchi E fa Ho appena finito di pulire la cappella Da lì io non ce l'ho più fatta Non ce l'ho più fatta